ecco ciao giorgio domenica 13 aprile allora la notizia che penso che anche se media la sottovaluta non si può nascondere ma c'è un appello degli otto chiesi tra la mosca in cui in ucraina in queste ore la situazione sta veramente gravandosi e l'occidente purtroppo l'italia un giorno sta a mosca esatto stava mosca chiesa e fatta trasmesso da mosca un servizio per il panoratv sì sì certo lì fatta trasmesso un servizio di poco più di tre minuti per il panoratv la tv su web appunto dirigì di getto chiesa il quale appunto insomma e ha parlato con un certo tono diciamo più di preoccupazione e in effetti cerco di dire questo che in ucraina sono forze palesemente occidentali che pigiano sul acceleratore perché qui a tutti i costi sembra che vogliono una guerra io non dimentico mai da anni che seguo chiesa quando dice che signori del denaro vogliono bruciare i libri contabili con una guerra e per qui e purtroppo i fatti indigono proprio questa cosa qua il colore venezuela è così in siria ancora quello che sappiamo e poi adesso in ucraina e con cui tutte queste cose quello che succede ma addirittura la statunità america hanno mandato un'onoro nave ancora oggi nel mar nero e e questo chiaramente non è una non è certo un simbolo di diciamo così di distinzione come pure il fatto che dei caccia della nato comunque americani ci vogliamo si siano stazionati in polonia e in paesi battici che poi la cosa che caro giorgio ma bisogna riflettere questo tutti ricordi quando ci fu appunto la la fine dell'urs e quindi anche il conseguente scioglimento del patto di varsavia ci fu la promessa solenne da parte della nato che nei paesi che si erano appena liberati dall'armata rossa quindi da gioco sovietico non ci sarebbe stato nessun'inglobazione della nato invece no da quando e questo è da qualche anno a questa parte gli americani stanno andando in bulgaria romania e insomma ci mettono le loro basi e naturalmente non le mettono per proteggere quel paese perché questi paesi lì ormai cioè c'è proprio da proteggere nel senso che erano occupati la luce si è ritirata quindi voglio dire non c'era una minaccia russa per occupare questi paesi non è mai esistita e invece adesso gli americani che stanno facendo un gioco a mio avviso molto pericoloso di cui bisogna tenerne conto pertanto ti lascio a te la parola anche per le tue considerazioni in merito oltre anche alcune siamo fatti di caratteri geopolitici che tu sicuramente ci vuoi dire sì io proprio cinque minuti cinque un flash si prego un flash per i nostri amici allora la prima cosa e tu hai detto ovviamente gli americani stanno mettendo le basi qua e là sopra e sotto esatto questo fa parte del gioco del go io l'ho detto tante volte il gioco del go è un è un grande gioco vale molto di più degli scacchi il gioco del go consiste nel i due giocatori i due avversari cercano di circondare l'avversario ecco si tratta semplicemente di circondarci vicendevalmente vince vince quello che è riusciuto a circondare il maggior numero possibile di truppe dell'avversario che poi sono piccole piedine sono sono semi no allora è ovvio che scopo degli stati uniti america degli occidentali è circondare la russia ma perché perché la russia deve essere tenuta fuori dall'europa allora questo è il punto che noi dobbiamo sapere ci sono due punti fondamentali che sono due punti di attrito o che potrebbero essere anche punti di limatura tra il l'europa occidentale e l'europa orientale superare questi due punti significherebbe creare l'eurasia allora l'eurasia è una potenza che gli occidentali mi riferisco a inghilterra e america non vogliono e non vorranno mai per gli stati uniti per gli inglesi occidentali in generale mettiamoci anche tel aviv la condizione ideale dell'europa era quella divisa in due come conseguenza il secondo conflitto mondiale il secondo conflitto mondiale ha comportato quello che loro signori volevano infatti cioè la divisione dell'europa nel momento in cui di operazioni di cui non sappiamo ancora bene la matrice questa divisione è venuta a cadere perché è venuto cadere il classico muro di berlino che è un simbolo no di questa divisione in quel momento per gli occidentali c'è un grossissimo rischio che si ricompatti l'eurasia ed è quello che loro non vorranno mai allora i due punti di attrito erano e continuano a rimanere gli stessi una è la polonia che è stata utilizzata dagli occidentali per scatenare il primo conflitto il secondo conflitto mondiale l'altra è l'ucraina perché l'ucraina oggi perché l'ucraina è qui lo dico e poi non entro nel merito se qualcuno mi vuol chiedere qualcosa me lo chiede per iscritto dei soliti appunti che vengono fatti in queste in questi video l'ucraina oggi rappresenta un punto fondamentale perché un punto di passaggio energetico bloccando l'ucraina gli americani sanno perfettamente che l'europa resta senza energia sì quindi l'operazione è duplice l'intervento in ucraina attento l'intervento in ucraina è duplice il primo è appunto quello di circondare o dare la percezione alla russia di essere circondata il secondo è quello di lasciare l'europa secco che sarebbe un enorme vantaggio per gli americani perché se l'europa assetata di di energia si rivolge agli americani per avere l'energia americana come già si rivolgero durante il primo conflitto mondiale perché ricordiamoci il primo conflitto mondiale vide gli stati uniti arricchirsi a dismisura nelle forniture di petrolio no alle forze e dell'intesa italia che anche le quali si è poi aggiunta per ragioni di ricatto internazionale all'italia ma insomma francia inghilterra no e ricordiamoci sempre che quando l'europa era stremata gli americani arrivarono ed occuparono l'europa con ben un milione e mezzo di militari quindi che militari che occupata l'europa permisero a quel punto a wilson di dettare le sue leggi giuguratorie che furono all'origine il secondo conflitto mondiale infatti come riconobbe anche il papa benedetti quattordicesimo o benedetti quattordicesimo detto questo io aggiungo qualcosa di mio dicendo che non posso che augurarmi che la merkel che è stata un agente di pankov sappia e visca quanto sia importante per la germania una politica una geopolitica di tipo eurasiatico certo e qui dobbiamo fare tre o quattro considerazioni la prima è questa quando noi parliamo di russia poche le persone si rendono conto esattamente di cosa parliamo sì adesso ti faccio vedere una cartina strategica di questo tipo tu vedi bene che quello è l'asia vista dalla russia infatti noi pensiamo in realtà l'ucraina noi vediamo l'ucraina o vediamo un territorio fino a mosca quella è l'immagine della russia per gli europei no perché il massimo sforzo di invasione lo ha fatto napoleone che arrivato a mosca di che non è andato oltre ma per i russi ma per i russi ma per i russi la realtà è un'altra se noi la vediamo così la russia è quella rossa tutto il resto è il restante dell'asia esatto è chiaro allora sebbe bene che tutti i nostri amici che ragionano e vogliono ragionare in termini concreti di politica storia pensino bene che la russia in quel continente lo vedi in quel modo lì non è come lo vediamo noi chiaro dove l'estensione della russia è il doppio di quella della cina sì sì è chiaro si vede quindi mi dirai perché buona parte della siberia è inabitata chi se ne frega però è un'estensione quindi se tu la vuoi circondare tu stati uniti e la cenda è un po' difficilottina detto questo vorrei ricordare che però l'italia non può mai tirarsi indietro ecco perché io spero che in germania nasca un forte movimento eurasiatico quando il sempliciotto pietro nenni andò in russia per avere il premio stalin si incontrò con stalin e gli disse compagno stalin noi vorremmo che l'italia le nostre forze politiche cioè il partito socialista il nenniano noi vorremmo che ricordo sempre che craxi era un nenniano e quindi quella politica di equidistanza craxi con grande abilità era perché era per la politica di nenni e nenni disse a stalin noi vorremmo che l'italia stesse al di fuori di questa questione e noi vorremmo vorremmo la neutralità dell'italia e stalin gli disse compagno nenni tu non hai mai capito un cazzo l'italia non può essere neutrale non lo è stata mai non è stata mai allora lo è stata mai prima quando era propulsiva e ricordiamoci che la propulsione italiana è finita nel 1600 è quando l'italia si è trasformata da potenza da potenza da potenza da grande potenza espansiva in terreno di scontro delle grandi potenze del momento ma prima è sempre stata espansiva se non altro attraverso le non poche repubbliche marinari che non erano quelle e disegnate nello stemma nella della bandiera marina e ma c'erano 5 ricordiamo giorgio che erano 5 repubbliche 5 perché infatti dubrovni che si chiamava ragusa e della quinta repubblica soprattutto lo dimenticano ma erano 5 repubbliche della marina esattamente e qualcun altro non li mettiamo per adesso ecco allora l'italia non potrà mai essere neutrale ecco perché l'italia nel primo conflitto mondiale è stato dalla parte degli occidentali nel secondo conflitto mondiale è stata dalla parte dell'impero centrale esatto io qui non dico germania o che sia da parte della heartland cioè della madre terra è chiaro no allora detto questo faccio vedere due libri per spiegare bene come stanno le cose come sono state le cose perché da questi due libri si possono capire dei concetti molto solidi il primo è questo se c'è stata un invasione da parte tedesca della russia questa invasione c'è stata perché il recceduto ha ceduto di fronte alle sirene inglesi infatti il nemico comune è chiaro e questo il nesso e la logica del secondo conflitto mondiale una guerra che il clerno avrebbe mai dovuto fare non avrebbe mai dovuto farlo poi c'erano fuori tutte le scuse che vogliono stalle insieme preparato per attaccare che stalin aveva preso i soldi degli anglo americani dai finanziari non possono dire quello che vogliono ma hitler che aveva avuto il massimo delle potenzialità di sviluppo proprio grazie agli accordi molotov ribbentroff qui c'è cascato in pieno purtroppo sì no è capito ecco ha creduto e questo è all'origine di tutto perché anche lo ripeto per i nostri amici l'attentato fondamentale attentato 20 luglio 1944 contro hitler è un attentato proprio perché c'era quella linea politica e geopolitica delle ss favorevoli di cui massimo espressione era favorevole agli accordi con gli anglosassoni no che hanno fatto fare degli errori colossali tra cui quello di lasciare di ripartire a dunkerque purtroppo ecco quello è stato fatto proprio perché hitler insisteva in questa sua linea antirussa in un momento in cui in cui invece era duopo sarebbe stato veramente significativo e importante fare quel volta faccia fondamentale che aveva proposto mussolini e che evidentemente era atteso credere di fare un accordo sottobanco a cui si riferisce anche quella strana lettera che abbiamo citato ieri quella strana lettera di giovanni gentile a mussolini perché lì c'era tutto un movimento in corso che poi come dicevo si è estrinsecato in quella fondamentale quel fondamentale attentato a cui le ss hanno risposto con enorme ferocia a capo di questa ss c'era quella otto scorze di che poi sarebbe diventato un pivò della cia quindi già questo dovrebbe essere indicativo e su questo e su questo mi fermo però io vorrei far vedere un'altra cosa che però mi piace non è non ho qui e non capisco per quale ragione avevo appoggiato da queste parti e lo faremo vedere al momento opportuno perché è molto importante è un libro intitolato il tradimento tedesco un libro di circa 20 anni fa se non se ne ricordo ma che tradimento era quello di fregare l'italia no la quale chiedeva anche per interessi geostrategici naturali cioè io entro in guerra l'italia è entrata in guerra contro l'inghilterra non contro la russia che poi noi abbiamo siamo andati in russia ci siamo andati come ben si sa per ragioni di petrolio non ci dato il petrolio siamo costretti a darcelo a prendere ma oltretutto noi siamo andati in russia soprattutto con gli alpini perché gli alpini dovevano fare tutta la circunnavigazione a piedi poveracci per arrivare all'irac è chiaro no? ecco allora io chiuderei qui dicendo signori noi non possiamo che auspicare che qualcuno si svegli che si possa essere una linea di geopolitica fatta bene di un'europa che potrebbe essere completamente d'accordo perché un domani che scocchi l'ora di una politica eurasiatica noi avremo sicuramente la Germania perché la Germania da questo punto di vista è l'epicentro e avremo anche la Francia che la segue soprattutto con una Francia con una Francia in cui comanda la Le Pen ma si perché se comanda quello che c'è adesso siamo freschi ma tra l'altro volevo dire anche una cosa c'è stata una cosa di Repubblica e vorrei segnalarti un'altra cosa di Repubblica di oggi la Repubblica ha riportato l'intervista del papà di Marie Le Pen cioè Jean Marie Le Pen il padre il quale ha detto il fascismo e il nazionalsocialismo non sono definibili a destra benissimo e ha riportato Repubblica questa intervista come mai Repubblica ultimamente anche il gruppo L'Espresso e Benedetti di Benedetti appunto vanno un po' contro il loro abituale cliché di cominciano a tremargli le emorroidi a questi signori ah ecco può essere se vogliono parlare in attesa di tempi brutti no? in modo tale che sia un migliore ancora per loro secondo me è quello perché sai che la classe intellettuale giornalistica e dire che è puttanesca è dire poco insomma certamente e lo diremo domani alla luce di questo splendido libro Peter Gomez ah regime si 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 ah bene 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 con una post-effazione di Beppe Grillo ma guarda un po' e senti questa frase di Indro Montanelli pubblicata nel retro di copertina qui non riesco a leggerla oggi oggi per instaurare un regime non c'è più bisogno di una marcia su Roma ah né di un incendio del Reichstag ah né di golpe sul palazzo d'inverno bastano i cosiddetti mezzi di comunicazione di massa e fra di essi sovrana e irresistibile la televisione ma guarda eh si è vero è vero questo è anche vero e Montanelli aveva capito queste cose qua l'aveva capito anche se poi anche se il comportamento che io ho detto tutto con Berlusconi è stato un comportamento assolutamente io non condivido con i Montanelli perché avrebbe voluto svolgere una certa funzione lui che vabbè ma Berlusconi non è quello quello stinco di santo che noi crediamo no 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 non posso non pensare a credere no ma io non sto dicendo quello sto dicendo che Montanelli poteva approfittarne eh diciamo di certe sue esperienze passate e poteva incarnare Berlusconi in un discorso diciamo più coraggioso invece lui ha preferito farsi bello e andare a fare la voce che poi dopo la voce ha fallito e ha chiuso si però Montanelli prima di tutto Montanelli non era uno stinco di coraggioso no mi si dirà è stato un grande inviato speciale e è andato anche in certi punti caldi si ma anche lì conoscendo io la storia molto da vicino la storia degli inviati speciali Montanelli non era uno di quelli che nei punti caldi andava ai primarini eh no 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 da scordarselo da dimenticare però ovviamente è uno che ha fatto la guerra ha fatto l'inviato speciale durante il secondo conflitto mondiale lo sappiamo perfettamente anche lì c'è modo e modo di farlo ad esempio appunto è qui che ti voglio il 90 per cento degli inviati speciali italiani eh di questo dopoguerri il 90 per cento perché c'è stato un 10 per cento veramente che era gente coi coglioni in tutti i sensi e e potrei anche dire tutti i nomi perché li ho conosciuti tutti e il 90 per cento è gente che ha fatto l'inviato speciale per modo di dire se andava nel posto caldo diciamo così il paese eccetera si piazzava in un albergo e di lì comunicava quello che comunicavano le grandi agenzie di informazione ah è chiaro sì è vero eh in effetti Montanelli facevano queste cose qui anche se poi raccontava delle cose che molte cose che ha raccontato sappiamo che sono perfettamente di ritorno e per quanto riguarda la sua posizione politica diciamo così nel dopoguerra dopo dopo l'allontanamento dal corriere della sera diciamo così e beh lui lì ha tentato un esperimento che evidentemente non è andato a buon fine anche perché la cultura italiana non era sufficiente per quel taglio di quel tipo di giornale va bene la voce non è un giorno è un giornale per intellettuali e riprendeva riprendeva la voce di Prezzolini era roba per intellettuali insomma certo e poi dopo dopo è dovuto lui ha dovuto piegarsi alle esigenze molto molto concrete della politica chiamiamolo politica spettacolo dei Berlusconi fino a che poi non ha retto più eccetera noi sappiamo comunque che lui era molto ben guidato da un raggruppamento politico di stampo cattolico che è quello che poi comanda in Lombardia esattamente detto questo io chiuderei sì certo perché quello che mi interessava di dire no direi di sì poi approfondiremo alcune cosettine di questi giorni perché vanno dette adesso vabbè dato purtroppo tempo quello che è comunque vanno dette in ogni modo adesso seguiamo con attenzione il fronte ucraino perché il fronte siriano insomma ci sono delle cose che stanno bollendo in pentola che vanno seguite è l'unione europea che ci scapita di più esatto sia in Siria che in Ucraina esattamente è l'unione europea quella che ci perde ma sì infatti ci perde ripeto infatti la Merkel essendo stata un agente di Pankov potrebbe sapere che a questo punto converrebbe portare avanti con pregiudicatezza anche se poi l'italia piena di basi americane com'è dovrebbe fare il triplo gioco il quadruplo gioco non so cosa può fare l'italia però almeno l'asse l'italia deve l'asse europeo si può l'italia deve semplicemente fare la puttana e trovare la sua dignità e pensare e pensare ai propri interessi quarta base americane appunto e non base americane americane ma non è nato no ho saputo questo pericurmato va bene non è fai ti saluto per intanto buonanotte a tutti e a presto a domani ciao ciao